Avrebbe picchiato la compagna incinta colpendola con dei calci alla pancia e procurandole un aborto. Per questo nei giorni scorsi i poliziotti del decimo distretto Lido hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 29enne d'origine sudamericane per maltrattamenti aggravati e interruzione di gravidanza non consensuale. Lo scorso 22 febbraio durante un servizio di controllo del territorio i poliziotti sono intervenuti sul lungomare Paolo Toscanelli a Ostia sul litorale romano per una segnalazione di una donna che scappava dal fidanzato che la stava picchiando. Gli operatori giunti sul posto hanno identificato la vittima ancora nelle vicinanze che ha raccontato d'essere fuggita dalle violenze del suo fidanzato. La donna è stata portata dal 118 in ospedale e hanno accertato che il fidanzato l'aveva colpita ripetutamente anche con un calcio all'addome. Nonostante sapesse che fosse incinta da circa tre mesi le ha procurato un aborto. La donna italiana di 23 anni ha dichiarato ai poliziotti che l'uomo aveva già avuto in altre occasioni questo tipo di atteggiamento maltrattandola sia verbalmente che fisicamente.